altro che petardi sono nera comunicazione di servizio ore 19 e tutto il giorno che sto appresso a ripulire il canale dai video che non piacevano a youtube sono stati eliminati tra short e video circa 200 video allora le cose cambieranno per qualcuno ma non cambieranno chissà di quanto io non potrò rientrare in monetizzazione ma posso continuare a pubblicare a mettere video e cose sul canale quindi il canale rimane aperto ci saranno lo stesso sempre tutti i video tutti i giorni ci saranno solamente due cambiamenti per ora uno per sempre purtroppo e l'altro per ora le nuove normative di youtube fanno sì che i video troppo simili o uguali o troppo ripetitivi non vadano più bene quindi mi ha precluso il poter continuare a fare il mercoledì interattivo quelli che ho già caricato posso mantenerli quindi rimarranno sul canale non li ho cancellati e ce n'erano ancora due che erano già stati caricati perché erano in programmazione e quelli andranno in onda farò un video però mirato per la chiusura della playlist del mercoledì interattivo e farò un video mirato anche per la cancellazione della playlist serie tv qui voglio concentrare invece la spiegazione agli abbonati che è stata la cosa che mi è scocciata di più al momento è stato chiuso il canale abbonati che verrà riaperto quindi gli abbonamenti se vorrete ripartiranno con tutti i video precedenti che sono rimasti in stand by e con tutti quelli nuovi che io nel frattempo continuerò a preparare per poi caricarli tutti insieme nel momento in cui mi ritaranno l'ok il canale abbonamenti era pulito non aveva problemi ma chiudendo la monetizzazione hanno chiuso anche il canale abbonati quindi io il 27 di gennaio farò la nuova richiesta per rientrare in monetizzazione prima del 27 gennaio non me lo concedono ci vogliono 90 giorni di blocco secondo le loro regole e quindi per 90 giorni il canale abbonati purtroppo non potrà esserci non si è perso nulla della scuola di esoterismo che stavo portando avanti sul canale abbonati ma ripartirà praticamente e si riapriranno anche i video dal 27 di cencio o meglio no dal 27 di gennaio farò la domanda per riaprirlo poi non appena me l'accetteranno se me l'accetteranno se non troveranno qualche altra cosa che non gli piace ripartirà il tutto comunque vi terrò informati per quanto riguarda il canale abbonati ovviamente per il canale abbonati al momento l'abbonamento non c'è quindi non vi verranno presi i soldi dell'abbonamento sarà tutto fermo e nessuno vi toccherà niente anzi non so nemmeno se poi quando ripartirà bisognerà riabbonarsi questo nemmeno non mi è chiaro perché non è scritto da nessuna parte comunque io adesso carico questo video faccio un video apposito anche di conclusione della playlist del mercoledì interattivo e faccio anche un video conclusivo per quanto riguarda la chiusura totale della playlist serie tv mi dispiace ragazzi guardate io c'ho le palle girate a 3000 non so nemmeno come faccio a stare così tranquilli a filmare il video però è così comunque il canale rimane aperto i video quelli classici normali continueranno a girarci sopra il mercoledì metteremo dell'altro e niente e si andrà avanti in questo modo ecco un'altra nozione che volevo fare era che per quanto riguarda le puntate della nuova trasmissione con me e giovanna lucido sotto la regia di paolo di bella lo specchio nero edizione 2024 sarà caricata sulla pagina di app web radio e social tv dalla quale la condividerò ovviamente anche sul mio account sarà caricata sul canale di app web radio e social tv da parte mia ci sarà la playlist dello specchio nero edizione 2024 con la partecipazione dei segreti delle tombe e con all'interno la rubrica fantasmi si raccontano quest'anno c'è tanta roba dentro ma la playlist sarà semplicemente di rimbalzo al canale di app web radio comunque in ogni caso voi per quanto mi riguarda nella playlist troverete lo stesso tutte le puntate quindi non ci saranno perdite e dispersioni di materiale ecco interessante l'unica cosa che purtroppo e mi sono girate le scatole tantissimo è quella del mercoledì interattivo che al momento viene considerato come troppo ripetitivo e con contenuti troppo simili per continuare a esistere per cui rimarranno quelle registrate finora chi non le avesse mai utilizzate le può utilizzare oppure può utilizzarle dopo tanto tempo a caso non ricordandosi un video piuttosto che un altro può richiedere una nuova domanda agli stessi video quindi possono essere anche riciclati e sono anche relativamente tanti per cui purtroppo al momento non posso fare nulla quindi nel momento sono fermi anche per quanto riguarda il canale abbonati le veggenze mensili è fermo tutto quello che c'era sul canale abbonati è finito quello che c'era sul mercoledì interattivo e non esiste più la playlist serie e tv mi dispiace ragazzi non è stata una mia decisione andiamo avanti vado a fare i due videetti specifici proprio sulle playlist elencate qui nella comunicazione di servizio e poi carico tutto questa sera e cerco di condividere questi video per farlo sapere a tutti più che altro ciao